Grazie Presidente, mi voglio associare ai saluti della Commissione Trasporti e faccio i complimenti anche proprio al Presidente Paita per come ha saputo creare un clima sicuramente di collaborazione all'interno della Commissione. Quindi saluto anche tutti i colleghi della Commissione. Poi saluto il nostro sottosegretario Morelli, anche lui è stato Presidente della Commissione Trasporti in una grande famiglia. Però certo, un po' contrariamente a quanto detto dalla collega Paita, la posizione che noi abbiamo e la considerazione che noi abbiamo su questo decreto Trasporti e Infrastrutture è quella che è l'ennesimo decreto senza una strategia, senza sicuramente una visione per l'Italia. E' frutto questo decreto sicuramente difficile da fare perché è stato fatto da partiti e quindi da colleghi deputati che tra di loro sicuramente avevano poco a che vedere. Quindi, Presidente, in questo decreto ci sono articoli che riguardano per esempio la capitale d'Italia, Roma capitale. Sì, certo, in questo caso non c'è il gasificatore che è stato uno o meglio il termovalorizzatore che è stato sicuramente uno delle concause per cui questo governo è andato in crisi. Per cui ci sono invece soluzioni per la manutenzione stradale, sempre per quanto riguarda Roma capitale. Questa dimostrazione però che tra i Cinque Stelle e il Partito Democratico, prima i Cinque Stelle che hanno governato Roma e ora ormai è quasi un anno che Gualtieri governa Roma, non è riuscito semplicemente a fare una pianificazione per la manutenzione stradale di Roma. Chiaramente noi non siamo contrari e che si investa sulle buche di Roma, sulla manutenzione stradale, però insomma va stigmatizzato la incapacità di chi governa Roma. Noi abbiamo usato argomentazioni serie sempre per denunciare che il governo dei migliori non era in grado di proteggere e mettere in sicurezza i soldi degli italiani e quindi di fare i loro interessi. E alla fine il correre dietro alla guida del Partito Democratico, all'assistenzialismo sfrenato del Movimento Cinque Stelle ha confermato le nostre posizioni. Il fallimento di quella storia ormai è scritto, noi l'avevamo previsto e ieri come oggi non ci avete convinto con questo decreto infrastrutture e trasporti. che forse voleva semplificare le procedure per la realizzazione di qualche infrastruttura, ma nulla ha oltre a questo il cercare di farlo, queste semplificazioni, ma nulla, come ho già detto all'inizio, di visione e di prospettiva. Comunque questo decreto contiene qualche buon intervento, ad esempio faccio un esempio sulle capitanerie di Porto, ma sono interventi sempre troppo circoscritti per dare respiro a una economia e a una nazione che non ce la fa più a vedere sempre compromessi a ribasso e decreti con titoli altisonanti, ma senza mai risolvere nessun problema per i cittadini italiani. E altro dato politico che voglio sottolineare è che tutti gli appalti contenuti in questo decreto hanno un rischio estremo e visto che stiamo parlando proprio delle buche e delle voragini di Roma e delle strutture all'interno delle capitanerie di Porto dedicate anche all'arma dei carabinieri, il rischio è ancora maggiore. Perché, vede Presidente, stiamo viaggiando con una inflazione dell'8% e forse quando saranno operativi i contratti l'Italia e l'Europa dovranno affrontare un'inflazione a due cifre. E questi contratti dovranno essere affrontati senza clausole contrattuali sull'inflazione. Non solo, tra l'altro, le infrastrutture oggetto di questo decreto, ma tutte quelle presenti nel PNRR sono a rischio. E allora chiedo al Governo in carica per gli affari correnti perché non le avete inserite queste clausole di salvaguardia sull'inflazione. Ma forse è il caso, mi posso anche rispondere da solo, ricordando le parole proprio dell'ex Presidente Draghi nella replica al Senato, prima di andare a consegnare le dimissioni al Presidente Mattarella, che forse per la prima volta in vita sua ha urlato, dicendo e parlando delle regole del bonus 110, che potevano essere fatte, e lo ha detto lui, non lo dico io, solo da dei cretini, lo ha detto lui. E questo quindi la dice lunga sulla considerazione, quindi altro che l'agenda Draghi, di cui vi riempite la bocca della considerazione che aveva il Presidente Draghi, proprio del Partito Democratico e dei Cinque Stelle. Anche se, va detto all'onore del vero, che anche lo stesso Presidente poteva anche fare a meno a Natale di lanciare il messaggio e dire tutto a posto, il grosso è stato fatto. E lo dico perché dopo che insieme al collega Rotelli abbiamo passato in Commissione Trasporti questi anni, a sostenere quello che tra l'altro ha sempre sostenuto e con forza vorrà e starà nel programma del governo prossimo, è quello del Ministero del Mare, e quindi vedere che in Italia, una penisola al centro del Mediterraneo, che è anche la più bella del mondo, vengono investiti 5 miliardi, come se fossimo la Svizzera, 5 miliardi degli oltre 200 del PNRR, e questo quindi è la dimostrazione probabilmente di quello che ha affermato il Presidente Draghi nella replica al Senato e sicuramente è la dimostrazione che non sapete dove vivete, dove vi trovate, ma soprattutto come si deve amministrare una nazione. Ed è soprattutto per questo motivo che quindi ho la certezza che dentro i faldoni delle opere sulla transizione ecologica ci sia sicuramente nulla, è un libro dei sogni e ho la certezza che quei faldoni sulla transizione ecologica sono pieni, anzi sono vuoti di ideologia a 5 stelle e di false tutele ambientaliste. E la fuga probabilmente del Presidente Draghi può essere stata condizionata anche dal nulla cosmico prodotto dal Ministro della transizione ecologica e dal Presidente e dal Ministro Giovannini. E sia chiaro, di questo noi non ne siamo come Fratelli Italia certamente contenti perché purtroppo è una grande opportunità persa per l'Italia. Potrei quindi in questa fine legislatura parlare anche di tutte le opportunità perse dal governo Draghi sul tema dei trasporti, delle infrastrutture viarie perché certamente avete occupato il governo a scrivere bonus zanzariere e bonus condizionatori che nulla hanno prodotto per l'economia delle famiglie e per l'economia reale. E poi, Presidente, mi consenta, se questo è il decreto infrastrutture, ne abbiamo parlato oggi con l'approvazione dell'ordine del giorno, però quello che è accaduto sulla concessione autostradale a 24 e a 25 è veramente vergognoso, è quasi da schifo perché dal 7 luglio, quando il Consiglio dei Ministri ha revocato tramite decreto legge la concessione, sto concludendo, delle due tratte autostradali, è successo di tutto. Dopo anni senza prendere una decisione il governo si sveglia ma viene bocciato dal Tar del Lazio, poi fa un contro ricorso tramite l'avvocatura di Stato. Poi c'è una seconda ordinanza del Tar che conferma la sospensiva della revoca. Ieri, prima agosto, altro ribaltone. Il Consiglio di Stato accoglie il nuovo ricorso dell'avvocatura di Stato contro l'ordinanza del Tar. Io credo che i cittadini delle Marche, della Valle dell'Aniene, dell'Abruzzo vorrebbero solo il diritto alla mobilità e alla loro sicurezza per le loro famiglie e per i loro figli che devono andare a studiare o a viaggiare. Dunque concludo e accorcio il mio intervento, Presidente. Il 25 settembre scelgano gli italiani che sanno bene, a differenza di qualche Ministro, dove si trovano, dove vivono e che vogliono solo che ci sia un Parlamento, un governo che tuteli i loro interessi. E quindi per quel poco di buono che contiene questo decreto e per il tanto che c'è da fare, dichiaro il voto di astensione di Fratelli d'Italia. Grazie.